Ciao a tutti ragazzi, bentornati qua su Varese in TV, naturalmente su un nuovo gioco, si chiama 3D Entai Cheese. Ebbene sì ragazzi, un gioco un po' più interessante, chi lo sa. Allora, intanto ragazzi vi chiedo già scusa, ma ci ho attaccato il ventilatore perché sto morendo, ma ve lo voglio registrare lo stesso. Allora, il gioco è un classico gioco da tavolo, scacchi in due varianti, in cui devi giocare con 5 ragazze, casual dove per vincere devi catturare tutti gli scacchi dell'avversario, oppure catturare un rae, e modalità avanzata con regole di scacchi standard, come ricompensa riceverai immagini di nudo. Attenzione ragazzi, attenzione, attenzione. Detto questo ragazzuoli, intanto il gioco lo trovate su Steam a 1,59€ e i produttori sono Flying Stone Production. Vabbò ragazzuoli, detto di questo, iniziamo subitissimo che proviamo il gioco, vediamo un pochettino come... Io vi dico già che faccio abbastanza caccare nei giochi di... come si chiama... Nei giochi di scacchi, però vabbè. Allora, la casual era... ok. Allora, Isabella, Amelia, Aria, Grace o Harper? Io direi... Isabella. Ah, ok, sei giù. Perfetto, allora, vediamo un pochettino come fare. Allora, 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 allora. Vai. Ah, quindi in base a come ti muovi... Ok. Figo. Ok. Io vi ribadisco, faccio veramente schifo in questi giochi, però... Possiamo vedere che cosa riusciamo a fare. Ecco. Allora, questo qui non mi ricordo assolutamente... Sì, se faccio così... Meglio metterlo di nuovo qua, va, questo. Io direi di fare... Ah, lui non si è mosso. Ah, così proprio. Perfetto. Ovvio che lo mangiamo, questo. Ok, perfetto. E uno ce lo siamo mangiati. Allora, allora, allora. Comunque è carino il... Ok, questo non possiamo mangiarlo. Ah, lui tecnicamente può fare dei giri così. Se io faccio così, se lo mangio sicuro, forse. No, invece no. Ok. E... Facciamo così. Lui però potrebbe fare due affari e ci attacca, tecnicamente. Facciamo così. Io faccio veramente schifo, però, nel senso, ditemi se sto sbagliando qualche mossa o altro, perché... Uno ce l'hanno mangiato, ma anche noi abbiamo mangiato uno, quindi tecnicamente, ragazzi... Abbiamo mangiato uno a testa, l'abbiamo mangiato. Allora, se lui può fare così... Allora, il cavallo di solito può fare la L. Quindi... Se io faccio così, dici che se lo mangio? No. Ok. Ehm, no. Questo però sì. Ok. Mettiamo questo. Ehm, eccolo, sapevo io che avrebbe fatto una cosa simile. Oh, sì, 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 assolutamente sì. Questo lo premiamo. Ah. You lose. Ecco, punto. Ehm, ok. Ehm, vabbè, aspettate, scusate. Cambiamo... Ehm, cambiamo ragazza. Aspetta. Possiamo restart? No, ok, chiudiamo. Cambiamo ragazza. Mettiamo Grace. Ehm, attenzione, ragazzi. Select stage one. Perfetto. Allora, vediamo un po'. Così. Ok, così. 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 Ci provo. E io la metterei qua. Allora, devo anche vedere un secondo quali sono quelle che... Ok. 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 Quindi, tecnicamente, se io c'essi quello di avanti, non sarebbe neanche una brutta idea. Questo, secondo me, se me lo mangia, se lo mando avanti. Però possiamo andare avanti questo. Ok. Ah. Una torre. Le torri possono fare un bel po' di cosina interessante. Non stanno avanzando, però. Avete notato che loro non stanno avanzando? Se si tengono molto in defensive mode. Io vado qua. Però se allora se io vado ancora avanti, mi mangia. Quindi non conviene. Però mettiamoci qua. Ok. Qua purtroppo può andare avanti solo di uno. Quello è il casino anche. Se li metto qua. Ok. Aspetta che vediamo... Ah, maledetto. Questo è un bel casino. Però se li metto qua? Ah. Ti sei cacato, hai in mano. Ti sei ben cagato in mano, ciccio. Ok, ok. Anzi, ciccio. Perché tecnicamente è una ragazza. Assolutamente sì. Maledetto. Questo qui è in mezzo ai coglioni in maniera pazzesca. Ho bisogno di spostare questo. Vediamo se riusciamo a prenderlo. Ah, questo intanto me lo mangio. Ok. E direi di tolare con questo indietro. Poi. Ok. Ok. Vediamo se riesco a mangiare quel cavolo di cavallo. Però non riesco a mangiarmi questo. No. Allora. Non ho sbagliato, vabbè. Ho fatto sbagliato. Vediamo. Brava, brava, c'è ci mettete lì bravissimo. Così mi piace. Che palle. Ragazzi, sono assolutamente una pippa. Come avete visto, sono una pippa. Comunque il gioco sembra carino. Nel senso... Suppongo questa cosa qua. Visto che ho scritto uno di cinque stage. Probabilmente la ragazza si spoglia in base agli stage. Quindi al momento è ancora normale, tra virgolette. Poi in base allo stage in cui sai, nel senso cambia. Vediamo se come tutti i personaggi. Ok. Questa anche molto carina. Poi... Vediamo l'altra. Vediamo aria. Carina anche questa. E vediamo... Harper. Ah beh, anche questa qua ragazzi, non è niente male. Va bene ragazzuoli. Io direi che per il momento è tutto. Tanto questo qui abbiamo visto. C'è anche la versione avanzata che penso sia abbastanza più complicata. E sicuramente incasinata. C'è anche la gallery dove appunto ci sono tutte le movenze delle varie tipe. Suppongo. Esatto. Comunque ragazzi, fatemi sapere che cosa ne pensate. Spero vi sia piaciuto il gioco. E ci vediamo alla prossima, sempre qua su BenessinTV, su un nuovo gioco. Dei giochi alla van. Ciao belli!